Al netto delle differenze epistemologiche e teoriche si prendono dei punti di riferimento che in un modo o nell'altro sono accettati, seppur con pesi diversi, da diverse forme di psicoterapia, hai fatto un esempio magistrale, la psicoterapia può avere il tuo obiettivo, ma di sicuro, nel caso di cui parlavi, di subalimentari, bulimia, giusto? Alimentazione incontrollata. Alimentazione incontrollata, ok? La diminuzione del peso sarà... È un outcome importante. È un outcome importante, ok, certo. Così come appunto la frequenza del numero di abbuffate, che sappiamo che quindi questi sono indicatori numerici che al netto di quello che è stato fatto, che va benissimo, poi il verdetto di dodo c'è già stato, quindi non siamo più neanche a vedere quale terapia, parlando di ricerca in psicoterapia chiaramente, quale terapia è più efficace di un'altra in generale. Stiamo a guardare cosa funziona meglio, per quale tipo di problema, perché chiaramente non è detto. Non è detto che se una terapia è più efficace per un disturbo d'ansia, lo è anche per i disturbi alimentari o per i disturbi di personalità. E' un'altra cosa molto importante, è perfetto. Noi diciamo che dal inizio alla fine del trattamento si è visto un benessere, un miglioramento in determinati indicatori. Ma questo miglioramento quanto dura? E in quanto tempo è stato raggiunto? L'efficienza. Ok, sì. Nel senso che al netto di tutto questo è chiaro che se intraprendo un percorso di psicoanalisi o una terapia analitica, arriverò, non vado a dire che dura, che è necessariamente controproducente rispetto a un approccio di terapia per breve, però è chiaro che la persona il sollievo lo trova in minor tempo, necessariamente, proprio per le ragioni, proprio per le tecniche che vengono utilizzate. E non si dice che uno è migliore dell'altro, però sto anche a valutare quanto ci metto a raggiungere il benessere percepito e quanto questo poi va a durare nel tempo. Quindi un'altra cosa fondamentale è andare a misurare al follow up, quindi dopo 3, 6, 9, 12 mesi, dall'interruzione dell'intervento stesso, quanto gli effetti di questo intervento durano. Perché altrimenti può essere dato dal buon rapporto che aveva col terapeuta, dal fatto che tutto in ambito ospedaliero, tutto il percorso di abilitativo ha avuto un beneficio e quindi chi mi dice che effettivamente è anche il mio pezzo da terapeuta. Giusto. Quindi ci sono diverse poi strategie per andare il più possibile a estrapolare quello che ci interessa. Siamo sempre esposti a bias, non siamo matematici, siamo psicologi, quindi non abbiamo pretesa. Certo. A meno, personalmente non ho pretesa di verità. Abbiamo pretesa di optimum e di miglioramento costante della conoscenza. E quello che si sta vedendo in questo periodo, ne approfitto molto, è il boom degli studi cross-culturali. Quindi si è visto che la stessa operazione, lo stesso lavoro, anche gli stessi questionari, prima di fare un confronto vanno validati attraverso culture, attraverso linguaggi. Certo. Questo permette effettivamente la generalizzazione dei risultati. Interessante. Io posso fare anche due studi che dimostrano l'efficacia della mia terapia. E questi bastano, però anche se ce ne sono 50 che dicono il contrario, bastano due per dimostrare che è una terapia efficace. E quindi di lì anche il bias del non pubblico e risultati negativi. Questo è un altro problema che abbiamo. Certo, ma c'è anche il contrario. Chi è che pubblica i risultati negativi? Forse solo io ho pubblicato uno, una tragedia. Ti ha trovato perché l'hai fatta? Il fatto è che quello è venuto, l'ipotesi non è stata rispettata e nel mio specifico caso l'aggiunta delle tecniche motivazionali non hanno dato un surplus rispetto alla terapia breve strategica per sé nel miglioramento del peso, dei comportamenti di salute in pazienti. beh, non ha dato un surplus. Poi c'erano dei problemi metodologici importanti, poi sbagliandosi in pazienza. Certo, certo. Quindi va bene che il mio trial sia stato tragico. L'ho pubblicato proprio perché era tragico. Certo. Infatti è quasi più utile leggere le limitazioni e i problemi del paper che in realtà è risultato. Chiaro. Però se qualcun altro l'avesse fatto probabilmente avrei sbagliato meno. Senti, hai detto una cosa, non so alcune cose interessanti, però una che mi tocca molto che vorrei approfondire un pizzichino. Hai citato il verdetto di Dodo che è quello che sostanzialmente da, fino agli anni, da anni 30 in realtà, anche se il verdetto di Dodo è stato chiamato così poco dopo, mostra che tutte le psicoterapie sono efficaci. Mi sembra di capire che, una cosa che avevo notato, però forse tu me la stai confermando, che ci si sta spostando, o ci si è già spostato in realtà, dal cercare di provare l'efficacia delle psicoterapie al, neanche all'efficacia delle psicoterapie con diversi disturbi, ma ancora di più all'efficienza. Cioè, se sono 70 anni che sappiamo che sono tutte efficaci, iniziamo a chiederci, io dico chi è più efficiente, non so se uso bene questo termine, ma lo intendo come chi ci mette di meno, ma chi richiede in generale meno risorse, temporali, ma anche di altro termine. Si sta andando verso questa direzione, si vada un po' verso questa direzione? Sì, assolutamente sì. Cosa funziona meglio per la specifica persona in quel determinato momento rispetto a quel problema? Quindi, chiaramente, non si vuole ridurre l'importanza di trovare la terapia migliore, però bisogna riconoscere che tutte hanno una loro dignità. Infatti, i fattori comuni? C'è stato un ritorno di fiamma nelle ultime decadi? Ci sono, vanno riconosciuti e vanno rispettati, la relazione, il setting, ci sono tutti aspetti che hanno un ruolo importante e trasversale rispetto ai vari approcci di terapia. Una cosa ancora più interessante, scusami, mi collego sempre a quello che stai dicendo te perché rimane nello stesso cornice, si ritorna al caso clinico anche, si ritorna, c'è stato un boom, dall'importanza, con i primi psicanalisti, si guardava Freud, studiava l'uomo dei lupi, studiava Anna O, ci propone il caso clinico, quindi l'indagine del processo terapeutico, per poi rendere tutto molto più metodologico, quindi dagli studi osservazionali agli studi sperimentali, ai randomized control trial, quindi tutti studi clinici molto rigidi, dove tutto deve essere controllato e che tutto sommato diventa realisticamente complesso nella nostra disciplina. Ora si sta assistendo anche a questo ritorno, a quel ritorno all'indagine del fa bene cosa succede da A a B, come cambia il punteggio da A a B, ma da A a B cosa succede? Quindi con il single case. Esatto. Ristudiamo. Esatto, e i fattori comuni riemergono in tutta la loro importanza e quindi il terapeuta, poi ci sono i fattori comuni che hanno un peso maggiore di qualcun altro, è chiaro che la relazione terapeutica impatta qualsiasi tipo di terapia, ha un impatto, anche in terapia strategica lo si capisce, il linguaggio, comunicazione e strategia, non importa, quindi la strategia è ok, ma se non viene comunicata bene e con la giusta relazione non ha un impatto così importante necessariamente.